Sì, dai, su, torni il gafferacino, dai Sì, guardate, ecco, andrà più bene tre volte, no? Sti bene, Pramžan? Sono l'olene per me! Ecco, l'enio, l'olene d'Amel Vabbè che giocavano contro la Roma e il Perma l'ha fatto un gran, bel printem però mi sapevo due gol nel secondo tempo il primo è Cristante e il secondo dal turco Unger non ricordava che i turchi fu messo e basta invece gli fanno anche due gol al Perma mancava Roberto Inglese che si è fatto male e che era in tribuna allora il mister D'Aversa la doveva metter Gervinio come prima punta e fare un schieramento nuovo Vabbè, passiamo e finiamo il giro di Anded a 25 punti con so quanti partiti vinti in trasferta l'ultima a Firenze adesso il mister D'Aversa e i suoi ragazzi bisogna che pensano a fare un bel San Silvestro e a prepararli per il sabato dei nove giorni contro l'Udinese che in classifica le misse più male che noi è per ricominciare il giro di ritorno buon anno a tutti i tifosi e a tutto il pubblico di legno che è il più bello del campionetto buon anno al mister D'Aversa a tutti i giocatori e a tutti i pranzi anni del vostro Annole da Perma sti ben pranzi anni e chi è la vostra festa? ha 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 ha